Riccardo, ci presenti lo spaghetto al lupo cantero, ma che cos'è il lupo cantero? Allora, il lupo cantero è una terminologia estremamente locale, il vero nome sarebbe lupicante, che è un astice di colore blu e si trova anche nell'argo del Tirreno, quindi nelle lontane coste dell'Isola d'Elba e della Sardegna. E' un astice di blu con cani molto più pregiati rispetto all'astice normale, ha un esemplare di circa un chilo, un chilo e mezzo, insomma, e c'è altro terzo perché. Lupo di cantero perché? Lupo di mare, cantero perché, questa è la versione romantica, nel momento dell'amore nacchera con le chele e corteggia la femmina. Quindi ha la particolarità di avere anche due chele diverse, una con denti più seghettati e una più ondulati, in questa maniera suona questa melodia. Questa è la versione romantica come ho conosciuto. Comunque, che le spaghetti e lupo cantero sono semplicemente con astice e pomodoro fresco, una pasta fresca che ci facciamo venire da Arezzo tutti i giorni, di una monarietta molto conosciuta, e abbiamo trovato un vero binomio tra questa pasta e questo astice che ci sta divinamente. Quindi è anche un piatto per gli innamorati.